Assessore Comanducci, di ritorno dalla Cina, che visita è stata, che importanza ha avuto per la città di Arezzo? Sicuramente molto interessante, è un partnership con questa città che si chiama Du Gianghie, poco conosciuta in Europa, con una forte vocazione turistica, ad oggi si parla di circa 18 milioni di turisti che dovranno diventare 50 grazie all'apertura nel 2018 di un enorme parco di divertimenti. Quindi una città che si vuole aprire all'Europa e che è molto interessata ad Arezzo, sia per quello che riguarda lo scambio turistico per via della cultura e dell'arte, ma molto anche interessata alla nostra artigianalità, quindi tutto quello che è l'oro, tutte le nostre facoltà che abbiamo, delle scuole di musica, di antiquariato, quindi molto positiva. Che riscontri ci potranno essere per la città di Arezzo? Allora senti, le linee sono tre, ora aspettiamo che una visita di una loro delegazione che dovrebbe venire intorno a luglio-agosto, mi piacerebbe farla combaciare con la giostra del Saraceno, però non sarà facile e poi da lì partire con degli scambi, come ti dice prima, di tre tipologie, quindi turistico, commerciale e soprattutto la parte formativa.